C'è stata un po' di tribolazione intorno a questa mostra per il posizionamento di alcune opere. Adesso però tutte le polemiche sono state diradate e abbiamo una grossa mole di opere all'interno di una sola location, un evento veramente unico, inedito. Per cui le chiederei gentilmente anche di commentare, perché abbiamo delle immagini relative a quelle che sarà la mostra, di commentare insieme un po' quali sono queste opere che noi avremo la possibilità finalmente di vedere tutte insieme. Guardi, allora, intanto la mostra certamente si svolge in qualche modo in due sedi, nel senso che la sede di Capodimonte raccoglie la maggior parte naturalmente delle opere, ma la pala del Piemonte della Misericordia, che è la prima pala che Caravaggio realizza a Napoli, resta nella location ovviamente originaria. Per caratteristiche tecniche ovviamente, non si può estrapolare. Sì, c'era un problema di spostamenti e quindi alla fine abbiamo deciso di tenere la pala nel suo luogo originario, che però riserverà delle sorprese ai visitatori, perché in qualche modo con la luce siamo riusciti a trasformare anche questo ambiente, che ricordo a tutti non era esattamente l'ambiente per cui Caravaggio aveva pensato il dipinto, ma è frutto di una trasformazione del 1671. Quindi, diciamo, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che invece nella sede di Capodimonte abbiamo circa 25 opere, non solo di Caravaggio, ma anche dei suoi seguaci, dei suoi più stretti seguaci, perché quello che la mostra vorrebbe documentare... Così giudetti i caravaggeschi, no? Certo, i caravaggeschi, benissimo. Lui ha avuto un seguito importante a Roma, ma forse ha un seguito ancora più importante a Napoli. A Napoli immediatamente si mette in contatto con questi artisti, uno è Battistello Caracciolo, che sarà l'altro grande protagonista di questa mostra, e l'altro è Luis Finson, di cui vedo che sono scorse su... Ecco, questo è Battistello, che vediamo ora in un momento meraviglioso, che è questa Salomè con la testa del Battista, che riprende l'invenzione caravaggesca che ho visto scorrere anche prima, che è quella della Salomè di Madrid. E invece abbiamo un bellissimo Luis Finson, che è il martirio di San Sebastiano, che è un artista fiammingo, che ha lì... Ecco, questa è la Salomè di Madrid, di cui parlavo prima, è un dettaglio di questo quadro strepitoso. E invece abbiamo, e poi questa pala, dicevo, di Luis Finson, che arriva da una chiesa di Rouget, che è in una località sperduta della Francia, e non è mai stata esposta, e siamo molto contenti di averla. Riprende invece un altro dipinto di Caravaggio... Ce l'abbiamo per primi questa qua. Sì, è un'anteprima. Un artista, peraltro, scoperto, se non sbaglio, 1911, insomma, molto più tardi rispetto al suo tempo, per cui è qualcosa che proprio dà il senso del fatto che la sua impronta sia rimasta comunque molto incisiva anche nei contemporanei. Guardi, lei ha fatto molto bene a ricordare il 1911, perché è la data della tesi di laurea di Roberto Longhi, che è stato un po' l'incipit della riscoperta moderna di Caravaggio. E Roberto Longhi ha delle parole straordinarie su Caravaggio a Napoli quando dice che le sette opere di misericordia sono venute incontro a Caravaggio come se le è trovate come in un vicolo, nel crocicchio di un vicolo di Napoli, e lui dice che l'incontro con questa città partenopea violenta e mimica, la chiama proprio così, ha in qualche modo creato la coralità nei quadri di Caravaggio, perché un'opera come quella delle sette opere di misericordia con una pluralità di soggetti è assolutamente inedita nel catalogo di Caravaggio prima di Napoli. Io penso che sia vero anche il contrario, cioè cessata, perché nella drammaticità del colore di Caravaggio, delle luci e delle ombre, del chiaroscuro, benissimo, è rimasta impressa nella pittura napoletana in modo indelebile. Io coglierei questo suggerimento, perché in realtà poi Caravaggio, che è definito anche l'inventore della fotografia fondamentalmente, ha ispirato e come i ragazzi, perché fondamentalmente prima di lui non c'era una pittura dedicata al reale, e quindi ciò che si può toccare. Fino all'avvento di Caravaggio c'era un'apertura destinata all'ideale, quindi i santi, Cristo, la storia, i racconti evangelici e quant'altro. Con lui si arriva a dipingere quella che è la mera realtà. Questo naturalmente cattura l'attenzione e l'interesse dei ragazzi. Mi posso permettere, la cosa più interessante è che proprio il soggetto religioso, che Caravaggio da un certo punto in poi persegue, cioè lui non farà mai più dei quadri profani, da un certo momento in poi, è stato reso umano e contemporaneo da Caravaggio, cioè non era una storiella. La Madonna diventa una prostituta, eccetera. Ma anche senza la connotazione negativa, anche in senso pieno, anche positivamente, prendendo il modello dalla strada, perché lui prendeva questi personaggi e li metteva in posa, però è chiaramente il fatto di cominciare a lavorare in questo modo denota una sensibilità proprio personale da parte del pittore gigantesca. Io credo che se verranno a vedere, capiranno immediatamente che cosa abbiamo voluto dire. Ma sicuramente ci sarà un sold out. Vogliamo però, come dicevi tu, fare un appello anche a casa. È bello anche cercare di invitare, soprattutto le nuove generazioni, a comprendere che la pittura di Caravaggio riguarda in qualche modo anche e soprattutto la nostra vita contemporanea, perché dà dei discatti. Sì, diventa attualissima. Esatto, quanto mai contemporanea è attuale, perché dà proprio dei momenti, degli screenshot di quello che viviamo tutti i giorni, naturalmente con la potenza del pennello e dei chiaroscuri. Certo, perché Caravaggio è un artista che coglie l'attimo, cioè vuole in un istante, in un fotogramma, realizzare, fotografare. Ecco, se ci fosse stato Instagram sarebbe stato bravissimo.